È stato spaventoso vedere Derek a terra, sanguinante. È stato spaventoso. Mi fa bene anche solo riuscire a tirarlo fuori, capisce? Grazie. Grazie. Mi sento pronta a riprendere il lavoro. Non capita spesso. Il fulmine di solito faccio entro la prima volta. Ok. Ho capito, ne riparliamo domani. Andiamo. Vuole un fazzoletto o un abbraccio o qualcos'altro? Vada ad abbracciarsi da solo.